Attore teatrale, lavora dall'inizio degli anni 60 nella compagnia di Dario Fo e Franca Rame in una serie di lavori, portati anche in televisione dalla Rai, tra le quali, L'uomo nudo e L'uomo in frac, I tre bravi, Un morto da vendere, Parliamo di donne, Isabella, Tre caravelle e Un cacciaballe. Doppiatore dalla fine degli anni 50, lavora anche in versioni di commedie di Shakespeare in lingua inglese, tradotte in italiano come Riccardo III, Sogno di una notte di mezza estate, Pene d'amore perdute, è anche stato molto attivo nel doppiaggio di film Disney. Su ad esempio è La voce di Tappo e Il coniglio in alcuni cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi di Vinnie de Pooh, di Grimsby in La sirenetta 2 ed altri ancora. Inoltre aveva doppiato anche il personaggio dei Griffin, Herbert, dalla decima alla dodicesima stagione, in sostituzione di Mario Milita. Muore a Roma il 4 luglio 2015 per un infarto. All'età di 81 anni, i funerali si sono svolti il 6 luglio in piazza San Pietro.